Shaggy Shaggy, Shaggy, Jiggy Jiggy Jiggy. Ciao Tophie. Ciao Florie. Come stai? Non sei contenta e felice? Sono felice. Guarda. No! Prima la sigla. Stai facendo la seppia? Che bella, la seppia che sta lontana e la seppia che sta avvicinando? Andari 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 si dice. Posso vedere? Andari andari. Che bello, posso far vedere l'articolo? Sì, adesso sì. Ti mafio lì. La giornalista del Corriere della Sera. Hai visto? Hai letto? Sì, ho letto. Ci sposiamo. Ci sposiamo. Che bello. Facciamo una prova? Puoi tu Florie sposare qui presente Tophie? No. Cosa? Scherzavo. Che bello, faremo anche dei bambini. Bambini, siete pronti per il nostro matrimonio? Siete tutti invitati. Perché ci sposiamo? Sì. Guarda, allora, questo è l'invito. Sì. Che bello. Lo vuoi vedere dentro? Sì, vediamo cosa c'è scritto dentro, bambini. Invito al matrimonio? Sì, aprilo. Eccolo qui. C'è il nostro Ivan. Che romantici. Che romantici. Mandateci tutti i soldini che volete. Sì. I matrimoni costano. Sì. Allora, dobbiamo presentare il nostro film. Sì, è bellissimo. Sì, è bellissimo. Sì, è bellissimo. Sì, è bellissimo. I monti. Sì, è bellissimo. che voce melodiosa che c'ha Heidi, ma adesso cosa succede? sogno sempre Heidi, c'è i capri che ti fanno ciao, i capri ciao beh, ciao beh, ciao beh, ciao beh quanto sono carino, le vuoi rivedere di nuovo i capri, sì ciao beh, ciao beh, ciao beh Heidi, torni da me? no, sogno Peter, Peter, un fidanzato di Heidi, mungole mungle sogno Peter, Peter fa il suo formaggio, mungle mucche, le mucche, le mucche sì, ma andate sempre in giro con le caprette? no, Heidi, aspetta, ma dove è il tuo nonnino? non è io, è morto che peccato avete visto che capolavoro che questo film e quanto ho lavorato per farlo? tantissimo ho avuto un'idea, ho avuto un'idea a tutti quelli che verranno al matrimonio faremo vedere il film, gratis cosa? Sì!